Girone duro, girone tosto per la nostra Italia ai prossimi europei, ad Euro 2024. L'Italia è capitata con Spagna, Croazia ed Albania. Partiamo dal presupposto che, essendo stati messi in quarta fascia, onestamente non comprendo il perché avendo vinto lo scorso europeo e comunque essendo ben piazzati sia nel ranking FIFA che nel ranking UEFA, ci solo doveva aspettare un girone così. Un girone sicuramente non semplice da passare, però vedendo come è andato il sorteggio, onestamente poteva andare meglio. Siamo capitati secondo me nel secondo girone più duro, il primo è quello che vedrà sfidarsi Inghilterra, Olanda e Austria con una quarta squadra che proverà dai playoff, quindi quello sicuramente era il girone incubo che andava evitato a tutti i costi. Noi capitiamo in un girone che comunque non è per niente da sottovalutare, anzi ci sarà da sudare. La Spagna secondo me è storicamente la nazionale a livello europeo bestia nera dell'Italia. Io non ricordo partite semplici con la Spagna, che sia Nations League, che siano amichevoli, che siano europei, che siano mondiali. La Spagna veramente ci mette in difficoltà con il suo gioco, quindi è la nazionale che io eviterei sempre. Di conseguenza il primo posto secondo me non è alla portata, loro sono superiori e non credo che l'Italia riuscirà a collezionare quei 7-9 punti che di solito occorrono. L'Albania sembra un po' la vittima sacrificale del girone, comunque sta facendo un bel percorso negli ultimi anni, in crescita come nazionale, non va sottovalutata, ma onestamente ci chiamiamo Italia, non possiamo temere l'Albania, così come essendo l'Italia non dobbiamo avere troppa paura della Croazia, che però è un avversario duro con il quale servirà la massima attenzione, la massima coesione, la massima concentrazione e cattiveria sottoporta. La Croazia infatti ha buona individualità, secondo me è una nazionale in calo rispetto alle ultime stagioni, con le nazionali alla fine per parlare di ultime stagioni bisogna andare indietro nel tempo. Sicuramente la Croazia è stata una delle nazionali migliori negli scorsi mondiali, però la vedo in calo, sia forse perché sta aumentando l'età di alcuni loro fuoriclasse, tra tutti Modric che è eterno, però comunque ormai ha la sua età, l'età di Rakitic, insomma tanti calciatori che sono andati avanti nella loro carriera e che hanno fatto le fortune di questa nazionale recentemente. Però rimane comunque una nazionale abituata a certi palcoscenici, abituata a stare nelle partite dure da affrontare, nelle partite che ti mettono una certa tensione come possono essere quelle di questo girone e comunque con calciatori che giocano tutti nei top campionati europei alla fine, la maggior parte di essi, quindi insomma anche per il livello attuale dell'Italia ce la giocheremo con loro fondamentalmente, così dovrebbe essere e non sarà per nulla semplice. Io mi auguro che l'Italia comunque migliori rispetto a quanto abbiamo visto nel percorso di qualificazione che, come ho già detto in altri video, non si può certo definire positivo e spero che Spalletti riesca ad imprimere più le sue idee perché lui è un bravo mister, sa valorizzare i calciatori e sa valorizzare il gioco della sua squadra, quindi mi auguro che avendo più tempo a disposizione faccia arrivare l'Italia con un'altra condizione agli europei e speriamo anche di trovare gente che ci serve, soprattutto in ruoli dove siamo debolucci. La prima punta abbiamo Scamacca, abbiamo Immobile, abbiamo Esolidi ma che in nazionale segnano poco, quindi spero che qualcuno di loro inverta la rotta o magari spero che esca un nuovo attaccante italiano su cui puntare e anche a centrocampo nel ruolo, insomma, del regista, Giorginio attualmente è il migliore ma non mi scalda, soprattutto perché anche lui lo vedo incalando nella sua carriera, quindi spero che anche lì a giugno potremo avere più alternative, poi non manca molto di talenti emergenti, difficile che ne compaiano in 5-6 mesi, quelli che mancano, però insomma, dai, spero che l'Italia sarà diversa perché quella che abbiamo visto nelle qualificazioni non è certo l'Italia che vogliamo. Una nazionale che poi, negli europei e nei mondiali, comunque, oddio i mondiali non tanto, visto che abbiamo fatto leggermente cagare negli ultimi anni, però negli europei sa il fatto suo. Quindi incrociamo le dita, forza azzurri, vi invito tutti ad iscrivervi al canale, attivate la campanella e non so, mettete like se questo video andrà bene, fatecelo sapere nei commenti, potremo anche commentare gli altri gironi. Inoltre, lasciate un commento con il vostro parere sulle avversarie incontrate dall'Italia, se siamo stati fortunati, sfortunati e chi avreste voluto beccare. Ciao a tutti ragazzi!